Un secondo elemento con il quale è possibile promuovere la nostra attività all'interno delle officine sono le immagini. Ogni iscritto può aggiungere liberamente immagini in un'apposita area della officine alla quale si accede attraverso la voce VETRINE nella barra del menu. Inizialmente vengono visualizzati gli album di immagini degli iscritti che hanno acquistato il servizio premium per la visibilità delle immagini in prima pagina. Cliccando sul collegamento a tutte le immagini possiamo invece vedere le immagini di tutti gli iscritti. Cliccando sul bottone Aggiungi in alto a destra possiamo aggiungere anche le nostre immagini. È sufficiente premere il bottone Fare clic per aggiungere foto e seguire le istruzioni. Le immagini sono un modo efficace per dare immediatezza anche visiva alla nostra attività, alla nostra offerta o a quello che facciamo. Possiamo anche raggruppare immagini tra loro correlate in Album. Possiamo visualizzare gli album inseriti dagli iscritti seguendo il collegamento Tutti gli album che appare in alto e da qui anche aggiungere i nostri album premendo il bottone Aggiungi. Gli album sono caratterizzati da una copertina, da una descrizione e dall'elenco delle immagini che sono incluse nell'album. Si possono visualizzare gli album anche come presentazione di diapositive. Cliccando sul collegamento relativo visualizza presentazione. Acquistando il servizio Premium Spazi vetrina in prima pagina, possiamo fare sì che i nostri album di immagini vengano visualizzati in posizione preeminente quando gli iscritti selezionano la voce vetrine nella barra del menu. E in prima pagina, in un apposito riquadro nella colonna centrale.